L'uso dell'acqua benedetta, tra molte altre cose, è una protezione efficace contro l'influsso del diavolo. Moltissimi santi la utilizzavano spesso. La utilizzano anche i veggenti di Meggiugorie su esortazione della regina della pace. Santa Teresa Davila diceva che i demoni fuggono per sempre dall'acqua benedetta. Impressionante nella storia dei due ossessi di Ilfurt è il fatto che se nella minestra di nascosto si metteva una sola goccia di acqua benedetta, i due fanciulli andavano in ismanie e si rifiutavano assolutamente di mangiarla. È diventata proverbiale la potenza dell'acqua benedetta sul demonio. La Chiesa esorta i fedeli a tenere in casa l'acqua benedetta e a servirsene per fare il segno della croce. Ha concesso sette anni di indulgenza ogni volta, per aspergere il letto prima di coricarsi, segnare con esse i bambini, aspergere i moribondi e i cadaveri.